Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. La chiesa metropolitana di Pescara Penne, chiusa la porta santa della chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara, ieri dall'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, nel corso della liturgia eucaristica pomeridiana. Resti però aperta la porta del cuore, la porta della misericordia, ha chiesto il presule durante l'omelia pronunciata durante la liturgia eucaristica. Sarà il segretariato regionale per l'Abruzzo a intervenire con i puntellamenti sulla chiesa di Santa Croce, gravemente danneggiata dal sisma del 30 ottobre, mai puntellata dopo quello del 2009. A dare l'allarme un cittadino sulla bacheca Facebook del gruppo Iemonnanzi, lo stesso gruppo, da sempre in prima linea nella difesa e nella salvaguardia dei tesori cittadini, ha organizzato un flash mob cingendo con un enorme tricolore la chiesa per sensibilizzare enti e istituzioni. Sono 14 in tutto i comuni abruzzesi inseriti nel cosiddetto cratere sismico dopo il decreto del 30 ottobre scorso firmato dal presidente Mattarella. Il decreto legge sul terremoto del 30 ottobre prevede risorse per 6 miliardi ma Renzi mi e ci ha assicurato che la cifra può aumentare, ha detto il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha tenuto una conferenza stampa sull'argomento con i consiglieri regionali terramani, Mariani e D'Ignazio, e con il presidente della provincia di Teramo, Di Sabatino. Con questo provvedimento, ha spiegato D'Alfonso, sono 14 comuni abruzzesi citati nei decreti per i terremoti del 2016, di cui 6 per quello più recente, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Torricella, Sicura, Tossicia e Teramo. I comuni di Isola del Gran Sasso, Fano Adriano e Pietra Camela saranno oggetto di misure regionali, così come il patrimonio religioso di Atri. L'Abruzzo è una regione che invecchia la provincia di Chieti e quella con il maggior numero di anziani. È la fotografia scattata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Chieti-Pescara. I dati sono stati diffusi durante la prima festa dei pensionati dopo l'unione delle due province che si è tenuta sabato ad Atessa. La popolazione residente in Abruzzo al 1 gennaio 2015 è di 1.331.574 abitanti, di cui 16,4% minori, il 61% di età compresa tra i 19 e i 64 anni, il 22,6% al di sopra dei 65. Nei prossimi decenni, quindi, prevede la CIA, ci sarà una progressiva e continua crescita della popolazione al di sopra dei 65 anni, per una crescita del 40,4% nel 2035, che si accompagnerà a una continua diminuzione delle nascite. L'indice di vecchiaia, dal 2005 al 2016, ha avuto un incremento di 20 punti percentuali, da 156,1% a 180,1%. La ASL di Pescara ha disposto la cessazione del servizio di radiologia annesso al polo sanitario di Tocco da Casa Aurea, a far data dallo scorso 1 novembre, nonostante i recenti investimenti per dotare la struttura di un sofisticato sistema di digitalizzazione delle analisi. Nel scorso mese di aprile, infatti, la stessa ASL pescarese ha stanziato, a favore della radiologia di Tocco da Casa Aurea, 18 mila euro per fornire un sistema di masterizzazione automatica con un CD con le lastre ai pazienti, con un contratto di utilizzo per il periodo che va dal 1 giugno 2016 al 31 gennaio 2020, rata mensile di 410 euro IVA esclusa. Contro l'annunciata chiusura, il 26 ottobre, anche il dirigente medico responsabile del polo sanitario ha inviato una nota alla direttore generale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'ASL di Pescara. Un guasto alla ditta Sistemi Sospensioni S.p.A. di Sulmona del gruppo Magneti Marelli, che produce componenti per auto e sospensioni e realizza il Ducato per tutto il gruppo delle sospensioni anteriori e posteriori, ha causato il fermo alla Sevella per il primo turno di lavoro. Il perdurare del guasto sulle linee mette in forza anche il secondo turno di lavoro per mancanza di materiale. Le informazioni sono tuttavia fornite ai dipendenti Sevella durante la giornata nello stabilimento. è stato quindi ordinato l'assenza lavoro, ad eccezione del personale specificamente comandato. La Will di Pescara ha chiesto un incontro urgentissimo per risolvere quello che definisce il grave problema di carenza di personale infermieristico e socio-sanitario che sta mettendo in ginocchio i reparti dell'ospedale di Pescara. Il segretario del sindacato, Svaldo Sulpizio, cita i problemi dei reparti di geriatria, neonatologia, all'annido in terapia intensiva neonatale, chirurgia 1, chirurgia vascolare, UTIC, cardiologia, pneumologia e medicina. C'è una situazione di sovraffollamento rispetto a quella che è la massima capienza di posti letto ordinari con due soli infermieri e un operatore socio-sanitario a disposizione. Il Tar del Lazio ha annullato la nomina di procuratore generale d'Abruzzo per l'ex procuratore di Chieti Pietro Mennini. La motivazione risiede nella mancata frequentazione di un corso di formazione per dirigenti che la legge ha previsto come obbligatorio. Anche se la norma prevedeva questo prerequisito, i bandi emanati da marzo a luglio 2015 in seguito a direttive del Consiglio Superiore della Magistratura non la prevedevano come obbligatorio e questo ha generato decine di nuove nomine potenzialmente a rischio proprio in seguito al pronunciamento del Tar. Sono stati 394 i voti contrari raccolti a Pescara dal sondaggio istituito dal centrodestra per la pista ciclabile su Via Muzzi, ultimo progetto dell'amministrazione Alessandrini. Sulle 400 schede raccolte dagli esponenti di Forza Italia e Pescara in testa in azione per due ore con un banchetto lungo l'asse viario sabato sono stati solo 6 i voti favorevoli. I pescaresi non vogliono la ciclabile su Via Muzzi, commenta il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri. Nessun centro temporaneo di accoglienze e assistenze ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sarà allestito in Via Napoli e la rassicurazione giunta ai residenti della zona dal sindaco di Montesilvano Maragno supportata da una comunicazione ufficiale della prefettura di Pescara. Il primo cittadino, gli assessori De Martini, Scozzi, Cigli e Vaccaro e il consigliere Aliano hanno incontrato a palazzo di città circa 30 residenti della zona compresa tra Via L'Aquila, Via Napoli, Via Torino e Via Isonzo. Al centro della riunione la situazione è legata soprattutto alla sicurezza del quartiere di Villa Verrocchio. Incastrata in un sacco della spazzatura una tartaruga di grandi dimensioni è spiaggiata sabato sulla costa di Montesilvano. L'ha trovata durante il consueto giro di jogging sulla battigia agonizzante ma ancora viva un architetto pescarese che subito ha avvisato i vigili urbani, le guardie forestali e la capitaneria e che ha riferito che la mattina dopo alle 7 la tartaruga era ancora lì morta. Oggi è lunedì 14 novembre la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Giovanni Sicchiero. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo coperto al mattino, pioggia nel pomeriggio nelle prime ore della sera e cielo coperto in tarda serata con temperature da 11 a 12 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono. Natascia, la parte tecnica è da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.